Ciao a tutti, allora scusate lo stato, sono con pochissime ore di sonno da 3-4 giorni perché ho fatto la seconda infiltrazione al polso e il dolore è qualcosa di inimmaginabile peraltro non riesco a muovere la mano quindi così, nel senso, faccio le cose a fatica con la mano destra perché l'altro ieri ho fatto la seconda infiltrazione ma il chirurgo è stato chiaro, devo fare l'intervento perché la situazione non si risolve non so se riuscite, andiamo se riesco a farvi vedere non c'è niente di cui impressionarsi, semplicemente come vedete è gonfio in questo momento è rosso perché c'è l'edema dopo l'infiltrazione ma è molto gonfio anche rispetto a questo, vedete com'è gonfio allora, cosa ho? ho la malattia di Decker-Ven che è praticamente una malattia, tra virgolette che prevede la crescita di questo tessuto all'interno del canale dove scorre il tennine del pollice mi ha detto l'ortopatico che è una malattia tipica di chi solleva pesi quindi probabilmente, anzi al 99,9% la mia situazione si è creata perché perché da quando sono stata operata a questa mano, perché sono stata operata a questo dito qua per un condroma io siccome questo dito non funziona più tanto bene, cioè non riesco a fare forza sforzo eccessivamente questa mano qua e quindi il problema si è presentato fondamentalmente per questo motivo non essendo mancina ovviamente la mano più utilizzata dovrebbe essere questa in realtà io questa la uso per scrivere per tante cose ma sforzo di più questa di conseguenza si è creato questo problema si sperava con queste infiltrazioni di cortisone di risolvere ma purtroppo mi dovrò operare non è un intervento complicato è un intervento molto semplice che viene fatto in laparoscopia viene pulito questo canale la mobilità della mano riprende quasi subito però è un intervento che dovrò fare però al momento ne ho uno più importante da affrontare in autunno quindi al momento rimane così la mano dunque faccio questo brevissimo video sia perché avevo voglia di farvi chiacchiere che perché fondamentalmente con il mio fantastico pigiama di Game of Thrones che ho preso da Primark allora qualche giorno fa sul mio gruppo c'è stata l'ennesima discussione il mio gruppo ve lo lascio sempre giù sotto nell'info box così come vi lascio il mio Instagram io non sono cioè su Instagram pubblico foto della mia vita quotidiana di quello che faccio di quello che compro di tutto allora dicevo sul mio gruppo è venuta l'ennesima discussione discussione che io affronto ogni tanto con qualcuno perché non so perché fondamentalmente guardate che crescita già cioè incredibile ho una crescita di capelli paurosa dicevo questa discussione ogni tanto l'affronto con qualcuno perché allora fondamentalmente probabilmente adesso mi è uscita la notizia che la maturità la seconda prova è su di classico al liceo classico è su Plutarco auguri a tutti i maturandi la mia maturità è talmente tanto lontana nel tempo che non mi ricordo più niente assolutamente dicevo affronto questa discussione spesso anche in modo piuttosto acceso nel senso non da parte mia attenzione perché io porto come sempre avanti le cose che penso con tranquillità e serenità d'altronde non è un motivo di essere aggressiva al contrario di chi di chi si scontra tra virgolette con me che quasi sempre ha dei toni di supponenza di fastidio che io non comprendo sinceramente allora io come ho sempre detto voi lo sapete il 90% dei miei prodotti dei prodotti che utilizzo è bio o comunque con buon inci ultimamente sto rivalutando quello che è il non bio per quanto riguarda la base make up perché come vi ho spiegato in altri video che ho fatto la base make up prevede una durata e comunque una performance sul viso che purtroppo il non bio non dà il bio non dà scusate perché io fino a l'anno scorso no nemmeno fino a quest'inverno ho utilizzato la BB cream della sua bioethic lo sapete ne ho sempre parlato l'ho sempre usata l'ho adorata e l'ho usata finché non ho avuto qualche problema non che me l'abbia causato la BB cream della sua bioethic attenzione anzi ma come ben sapete dopo i 40 anni sulla mia pelle hanno cominciato a spuntare dei segni del tempo che sono normali voglio dire anzi io ho una pelle piuttosto bella devo dire piuttosto soda non ho zampe di gallina non ho grossi problemi voglio dire però ho qualche rughetta qui sulla fronte sulla tra le sopracciglia mi si è formata una ruga qua qualcosa qua c'è dimentico comunque la pelle per cui adesso la mia pelle necessita di qualcosa in più per qualcosa in più cosa intendo? make up partiamo da questo presupposto al momento sto utilizzando ho ricominciato ad utilizzare perché prima io li utilizzavo basi con siliconiche è stata una scelta ponderata dovuta al fatto che la BB cream della Sobio per quanto buona per quanto coprente per quanto tutto non contenendo nessun tipo di silicone mi andava ad evidenziare i problemi che io ho quindi cosa ho deciso? ho deciso perché mio malgrado ho deciso di utilizzare nuovamente solo un make up con silicone quindi utilizzo la base della Revolution utilizzo la cipria di Fenty che comunque contengono silicone è stata una scelta ponderata appunto perché se mi devo truccare ma si devono vedere le rughette in evidenza che mi fanno anzi più di quelle che ci sono è inutile pure che mi trucco una buona alternativa è la BB cream di Peterak e va benissimo anche quella però è molto leggera cioè non mi copre non mi va ad aiutare con la situazione che io ho qui è vero che nemmeno il fondo di Revolution fa i miracoli però noto che è più riempitivo perché appunto contiene siliconi i siliconi cosa fanno tendono a piallare perché riempiono tra virgolette sempre le rughette quindi queste zone svuotate aiutano diciamo ecco perché io ho scelto di affidarmi esclusivamente al make up perché il make up a fine giornata lo rimuovete rimane comunque superficie i siliconi non fanno male perché penetrano nella pelle i siliconi sono inerti stanno lì occludono al massimo evitano la traspirazione perché dico solo make up perché il make up a fine giornata se ho messo il fondotinta perché non è che lo metto sempre spesso ma non sempre in estate per esempio non metto fondotinta metto solo la cipria il correttore come base sto parlando io a fine giornata quello lo rimuovo quindi qualsiasi cosa c'è sopra la rimuovo perché dicevo ho scelto di non mettere altro con i siliconi perché ci sono tante altre cose con i siliconi le creme i sieri perché comunque per quanto riguarda la mia skin care io scelgo di non utilizzare derivati del petrolio e company perché ovviamente i prodotti che voi mettete prima di andare a dormire o durante il giorno che idratano che dovrebbero idratare devono farlo sul serio i prodotti quindi di bellezza curativi quindi tutti quelli che riguardano la skin care secondo me è una cazzata prendere prodotti con i siliconi perché prendete roba che maschera il problema non lo risolve perché se guardate per esempio vi faccio un esempio ho qui il cellulare con il mio amico Bradipo ho qui il cellulare per farvi un esempio allora scusate sentirete che ho il rospo in gola ho questo rospo in gola perché sto prendendo gli antidolorifici sentirete che faccio anche fatica a parlare perché io sono allergica sono intolerante a molti fans quindi molti antidolorifici perché il mio stomaco non li tollera bene però in questi giorni capirete bene che se non prendo gli antidolorifici non vivo perché il dolore è veramente molto intenso un paio di giorni spero tra i 4 giorni che si risolva perché le infiltrazioni sono molto pesanti lasciamo parte allora vi faccio un esempio come voi sapete io utilizzo The Ordinary The Ordinary non è una linea bio non è una marca bio è una marca con buon inci però evita l'utilizzo di veicolanti evita l'utilizzo di talati di tante cose che la cui nocività è comprovata perché molti promotori di formal day molti ftalati molti peg sono nocivi mentre i siliconi sono inerti nel senso i siliconi filmano al massimo vi creano come doni punti neri pelle impura cioè i siliconi sono il male minore per la pelle sono il male maggiore per l'ambiente ma questo è un altro discorso che affronteremo dopo allora vi faccio un esempio dicevo io utilizzo The Ordinary The Ordinary ha dei buoni ingredienti anche Revolution perché di fatto ha copiato The Ordinary ha buoni ingredienti l'altro giorno guardavo sul sito di Sephora perché mi è arrivata la solita mail spam sulla sulla casella di posta che mi diceva sconti su bla bla 20-30% e io ogni tanto apro questa posta e apro la pagina di Sephora tra i prodotti scontati ecco scusate c'erano queste creme che secondo me hanno dei prezzi folli perché spendere 700 euro per una crema è follia secondo me è follia pura però c'è chi ce li ha e ben venga nel senso se te le puoi permettere per carità però spendi 700 euro per un prodotto che ha in alto tutti i siliconi gli attivi veramente reali quindi che funzionano e funzionali sono a metà inci o più in basso che cosa stai comprando? una marca perché compri solo quella vi faccio l'esempio ora io cioè tiro una crema qualsiasi al momento ecco dunque io non vi dirò il nome della crema vi farò vedere solo l'inci e poi voi mi direte ok allora il forum è sai cosa ti spalmi non so se conoscete questo forum ma sicuramente lo conoscerete sai cosa ti spalmi è uno dei forum più completi dove si discute di inci dove si mettono gli inci e aggiornati dove vi dicono appunto cosa vi spalmate addosso allora questa è una maschera quindi una maschera poi vi dico il prezzo allora ecco vedete tutti quelli rosso sono i pallini i pallini rossi sono gli ingredienti nocivi tra virgolette quindi i verdi sono quelli inerti quindi quelli che non danno problemi che non danno i rossi sono i gialli i arancioni i barè sono gli allergizzanti quindi sono in questa roba ci sono i verdi perché ce ne sono diversi quasi tutti gialli quasi tutti i rossi e gialli quindi i verdi ci sono ma sono in minoranza rispetto ai rossi e gialli questa crea questa maschera prevede in primo acqua ovviamente poi c'è il butilene gliconico che è un solvente un peg come terzo ingrediente che è un emulsionante il peg 8 poi abbiamo la glicerina il caprilic il trigliceride lo squalane che è un emolliente ma è verde perché non ha nessun problema il coco caprilate che è sempre un emolliente ma è sempre verde mistril mistilate che è un emolliente sempre verde e qui questi sono i primi ingredienti dove ci dovrebbero essere gli attivi poi c'è il c12 che è un emolliente quindi è tutto pieno di emollienti la maggior parte è di sintesi poi abbiamo il taurate copromerino copolimero oh che cavolo ho riuscito di dire questa frase che è uno stabilizzante l'abbiamo l'amica che è un opacizzante sta lì in una maschera si può anche essere potassio 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 cetil fosfato che è un tensio attivo è verde però capril il glicolico il glicolico in arancione è un umettante perché potrebbe essere potenzialmente allergizzante poi abbiamo tribetim che è un condizionatore cutaneo carbomer questo me lo dà in rosso è lo stabilizzante emulsionante un viscosizzante è il meno schifoso va diciamoci l'alcol alcol poi abbiamo oh un legante stabilizzante verde la carla greenham non so cosa sia ah ok si so cos'è poi abbiamo perché hanno diversi nomi poi abbiamo un altro solvente sempre rosso un altro solvente cosa devi cosa devi fare con tutta sta roba e ancora niente attivi eh siamo già a metà dell'inci poi abbiamo un altro solvente la lecitina che è un antistatico vabbè ecco qua abbiamo un agente tampone sodio idroxido poi abbiamo i glucosaccalidi che ci devi fare con il glucosaccalidi in una maschera ma non ha importanza un altro emolliente un altro emolliente un omettante poi abbiamo ceramide 2 un condizionatore capelli in una maschera per il viso poi abbiamo ok il primo attivo sapete dov'è 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 20 26esima posizione tutto sopra sono solo emulsionanti e umettanti abbiamo il sodio ialunonato a metà molto sotto la metà dell'inci e poi ricominciamo additivi umettanti solventi agenti tampone e vado avanti cioè se volete vado avanti ma la lista è infinita quindi voi cosa comprate questa maschera quanto costa scusate ve lo dico subito questa maschera costa 650 dollari per 30 ml cos'è che avete comprato? eh? ve lo dico cos'è che avete comprato? la marca quindi nel momento in cui mi si dice eh ma funziona cosa? cos'è che funziona? è è un effetto piallante stupendo certo è pieno di siliconi perché poi se andavo avanti c'erano i siliconi eh stessa cosa con le creme in alto tutti i siliconi in alto gli attivi sono in basso quindi cosa realmente cosa fa alla vostra pelle? nulla perché gli attivi quindi quelli che possono aiutare veramente questa persona con cui ho avuto questa discussione mi diceva che il bio è solo effetto placebo sì in effetti a me i capelli trattati eh perché i miei capelli sono trattati mi crescono sono così lucidi e belli perché è l'effetto placebo io mi immagino di avere i capelli così belli non ce li ho così in realtà è finto me la credo no? cioè due dita di cervello due sanno cos'è l'effetto placebo l'effetto placebo è qualcosa di cui tu ti convinci ma i capelli sono qua non è che mi so convinta so qua cioè la vedete la crescita in dieci giorni? la vedete? la vedete la crescita in dieci giorni? dieci giorni? dieci giorni fa ho fatto quindici toh ho fatto i capelli io questa crescita quando non utilizzavo bio non è che l'avevo però ha effetto placebo la pelle perché io mi lamento tanto della mia pelle che ho le rughe però la pelle così ha quasi 41 anni non è che ce l'ho pulita senza imperfezioni senza punti neri ne ho pochissimi non è che ce l'ho perché la genetica aiuta sicuramente ma mia mamma che non usa è vero che lei ha pelle mista però lei non usa prodotti bio e ha la pelle molto più sporca della mia le vengono ancora i brufoli a 71 anni io a parte quando mi viene il ciclo ma quello è ormonale brufoli non ne ho non ho come doni però effetto placebo ma di cosa stiamo parlando ognuno è sicuramente libero di esprimere ciò che crede però di non dire cazzate perché con le cazzate io mi incazzo non mi puoi venire a dire che il bio ha effetto placebo quando in una crema bio in una maschera bio tutti i biattivi sono in alto quindi le cose che funzionano veramente sono in alto non ci piazzo 26 solventi prima del primo attivo ho 26 siliconi prima del primo attivo perché altrimenti la mia maschera e la mia crema non fanno un cazzo scusando la frase ci piazzo in alto quello che è veramente utile per la pelle sodio ialuronato gli oli le componenti preziose di un prodotto non ci piazzo in alto la merda e poi scendo e verso il basso ci sono gli attivi perché altrimenti è un furto secondo me è stupido che si fa rapinare perché se spendo 620 dollari per un prodotto che ha quello che avete visto cosa c'è di attivo lì dentro? nulla il poco che c'è è troppo in basso perché faccia effetto è tutto un effetto finto perché tensioattivi emulsionanti siliconi siliconi fanno cosa fanno? creano un film sulla pelle che la fa apparire stupenda liscia bella in realtà se smettete di usarli sotto la pelle è peggio di prima e ve lo dico perché lo so non perché sto inventando cazzate e poi esce la meravigliosa frase io ho studiato cosa? dove? e poi scopri che hanno fatto l'estetista per due anni che con tutto il rispetto dell'estetista eh? con tutto il rispetto dell'estetista che io le adoro però non mi puoi dire io ho studiato cosmetologia che vuol dire? quindi tu mi stai dicendo che hai detto una sacca di minchiate pure se avessi studiato quello che vuoi ingegneria aerospaziale ma hai detto una fracca di minchiate per cui secondo te le creme ricche di esso di petrolio fanno bene le creme bio fanno schifo fanno solo effetto placebo hai detto una minchiata perché cosa significa? ma poi cosa significa bio? ci riflettete un attimo su cosa significa bio? allora il biologico per quanto sia complesso spiegarlo così cerco di spiegarvelo in poche parole il biologico che cos'è? è una scelta di vita a parte che è una scelta di vita non è soltanto il bio cosa significa? che gli attivi utilizzati per produrre quel determinato prodotto sono da agricoltura biologica questo significa ma non solo io non uso solo bio prevalentemente uso bio ma utilizzo anche buoninci perché? cosa significa anche bio? bio significa anche non utilizzare in quei determinati prodotti agenti che siano dannosi per la pelle e per l'ambiente perché bio è una filosofia molti di questi agenti le microplastiche gli emulsionanti i tensioattivi gli siliconi vado avanti i peg sono inquinanti anche per l'ambiente perché dobbiamo sempre chiederci che ambiente vogliamo lasciare alle future generazioni che pianeta gli vogliamo lasciare perché se attualmente andiamo verso la deriva in cui stiamo andando non finirà molto bene ora io non sono lì già nel senso non sono talebana lo ero prima adesso mi sto leggermente ammorbidendo ma perché? non perché io abbia cambiato idea perché molte cose purtroppo non vanno incontro alle mie esigenze però evito cerco di condensare il più possibile l'utilizzo per esempio del make up quello non lo faccio tutti i giorni quindi alla fine lo faccio molto meno l'utilizzo di questi prodotti una cosa per me essenziale è il cruelty free il cruelty free per me è fondamentale cosa è il cruelty free? che per produrre quel prodotto non sono stati effettuati i test sui animali per me quello è fondamentale però per fortuna stiamo andando in una direzione in cui i test sui animali saranno presto vietati per tutto non soltanto per il make up quindi io voglio dire a queste persone che mi contestano e mi dicono eh ma il bio se su di voi non ha funzionato non significa che non funzioni su nessuno o se non siete state in grado di sopportare perché c'è una fase che io dico sempre è una fase che è diversa per ognuno di noi c'è chi non l'affronta proprio c'è chi invece l'affronta e ne affronta risultati pesanti io ci sono stata un anno per disintossicarmi dai siliconi cosa succede? prima di quando smettete di utilizzare prodotti con siliconi per questo io dico o con petrolati o con quello che è per questo io dico non passate di botto al bio perché altrimenti sarà terrificante migliorate pian pianino gli inci fino ad arrivare al bio c'è una fase di disintossicazione per cui pelle e capelli peggiorano tantissimo io avevo la pelle devastata distrutta piena piena di bolle di irritazioni mi è venuta persino la dermatite cosa che io non ho mai avuto i demi capelli scopa di saggina per un anno sono stati terrificanti nel momento in cui si sono liberati di questa patina quindi immaginate gli anni di roba che io avevo addosso quando si sono liberati di questa patina tutta un'altra vita i capelli hanno cominciato a crescere io prima ho voglia di prendere tutte le vitamine per i capelli perché i capelli non crescevano io avevo sempre i capelli hanno una certa lunghezza e non mi spiegavo come mai perché erano filmati non respiravano cioè io ho una crescita in dieci giorni come ve lo spiegate e io li tratto perché io li tratto li decoloro alla radice i prodotti che uso per colorarli quindi le I-Tone Plus o come si dice Goldwell sono tutti prodotti cruelty free buoni con buoni ingredienti però io li decoloro a quello non voglio rinunciare quindi io li tratto di conseguenza sono capelli trattati eppure i miei capelli crescono che è una bellezza quindi io vi voglio dire prima di sparare cavolate voi potete non usare bio liberissimi potete prendere andare alla pompa di benzina della S o farvi la doccia e passarvela e dirvi è stupenda liberissimi ma non siete liberi di sparare minchiate su cose che non capite e io mi accaloro perché comunque mi fa rodere che la gente spari cavolate senza saperne nulla dico tu sei libera di spendere di andare da Sephora a farti rapinare di 700 euro una crema che non ti dico che cosa c'è dentro e spero che tu lo sappia perché leggere un inci leggere un inci è fondamentale per non farsi fregare secondo me per esempio la crema Egizia Magic che io ho scoperto da poco ma in realtà a quanto pare c'è da parecchio la crema quella lì ha degli ingredienti stupendi gli vale 25 euro volendo o no perché non è che è tutta questa gran miracolo nel senso però almeno non sto campando la ESO non sto pagando 700 euro la succursale della ESO perché queste creme come primo ingrediente hanno l'acqua ovviamente ci magrebbe come secondo ingrediente hanno l'inferno di siliconi la maschera non li aveva aveva una marea di fumettanti non so per quale motivo però dico cerchiamone un'altra divertiamoci un po' allora sto prendendo una delle creme non ve la dirò non vi dirò il nome perché mi devo divertire ok aspettate sai cosa ti spalmi eccolo qua allora questa è una delle creme ok questa vi dico quanto costa ve lo dico prima questa costa 145 euro per 30 ml 145 euro quindi economica rispetto a quelle che ho visto prima e abbiamo mineral come primo ingrediente mineral oil paraffinum liquidum come secondo ingrediente abbiamo petrolatum come terzo ingrediente abbiamo la glicerina come quarto ingrediente abbiamo un emolliente solvente condizionante lì è scritto piccolissimo poi abbiamo come quarto ingrediente un estratto di lime probabilmente l'odore poi abbiamo quinto ingrediente ceramico cristallina come quinto ingrediente è l'anolina è un antistatico emolliente poi abbiamo un altro emolliente un altro emolliente un viscosizzante non vi leggo perché faccio fatica un viscosizzante poi abbiamo un altro emolliente oh abbiamo il primo attivo esattamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 15 posti dopo abbiamo l'eniantus annus sunflower seed oil poi abbiamo un altro attivo guarda un po' un altro olio poi abbiamo basta due attivi erano già sufficienti abbiamo un sequestrante un chelante un condizionante cutaneo un additivo un altro additivo un altro additivo un altro additivo è pieno di additivi questa cosa poi abbiamo un'altra paraffina così per gradire buttiamogliela in mezzo oh abbiamo il primo antiossidante ed è 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20 22 posti più in basso la vitamina E sarà in quantità tipo finito poi abbiamo la niacinamide un altro additivo un altro additivo uno stabilizzante un emolliente un agente tampone l'acido citrico poi abbiamo un un condizionatore cutaneo che è dato come bianco quindi vuol dire che sta lì perché l'avevano in più e l'hanno buttato nella crema che non ha molto senso poi abbiamo un altro un colorante vabbè sono scelte poi abbiamo il pantenolo come antistatico e poi infine non so se lo vedete questi qua verdi sono tutti gli emollienti verdi infine abbiamo una serie di allergizzanti giusto per gradire abbiamo il limonene il ceradiolo il genariolo il linariolo insomma tutti gli allergizzanti un altro allergene del profumo un additivo un allergene del profumo un allergene del profumo e poi infine quattro conservanti comunque ragazzi gli attivi questa crema non ne ha cioè ne ha due ha due oli e una vitamina E e voi pagate 149 euro per una serie di additivi una serie di emulsionanti ed emollienti e tre attivi è follia è follia e se non sapete leggere l'inci e vi fate fregare a me dispiace per voi però poi non mi dovete dire venire a dire che il bio è sol cioè il bio mi convinco che faccia effetto invece non fa un cazzo perché non è così di contro prendo una crema bio scusate una qua una a caso quale prendiamo biofficina toscana no domus olea domus olea toscana inci prendo uno qualsiasi sai cosa ti spalmi abbiamo no questo non c'è niente ne devo trovare uno qualsiasi dai dammi sai cosa ti spalmi sai cosa ti spalmi ok vediamo se riesco a trovare già perché giustamente cerco sai cosa ti spalmi domus olea e mi viene tutto tutta la linea di sai cosa ti spalmi cerchiamo ok cerchiamo il contorno occhi contorno occhi do mussolea vediamo ecco uno qualsiasi allora ok sai cosa ti spalmi vediamo ecco qua allora questo è il siero contorno occhi e zone critiche del viso quello che utilizzavo io allora è tutto verde vabbè che ve lo dica fa è biocertificato quindi è tutto verde abbiamo in alto in alto l'olio di oliva tocoforolo caffeina quindi tutti gli attivi che servono per il contorno occhi poi abbiamo proteine della seta glicerina vabbè altri attivi qua sotto abbiamo eliantus anus sidol butenuspermio parchi but che è il l'olio di il burro di catite poi abbiamo la lecitina vabbè xanthangam sodio di luronato quindi in alto in alto abbiamo tutti gli attivi quindi tutti gli oli le cose che servono veramente poi abbiamo vabbè ci sono non so se vedete ci sono c'è qualche pallino giallo sono gli allergizzanti perché ovviamente do mussolea per vendere un prodotto lo deve fare profumare un pochettino quindi ci deve mettere qualcosa altrimenti l'olio di oliva non è che esattamente scusate rieccomi scusate mio marito mi chiama ovviamente per sapere come sto e io ho detto guarda sto facendo un video allora dicevo io non mi ricordo dove ero arrivato comunque quindi un qualcosa che voi comprate questo quanto costa il contornocchio vediamo costa 22 euro e 50 quindi non è esattamente poco per 15 ml però comunque è un prezzo diciamo do mussolea ho preso una delle case più costose tra il bio ecco ce ne sono anche più costose però dico medio alto come costo è certificata Icea do mussolea però per esempio che so dell'idea è un'altra casa cosmetica bio abbastanza alta come prezzo poi ci sono sto pensando Hino è un'altra marca con certificazione Icea che ha un prezzo abbastanza elevato dico sono tanti sono tanti i prodotti bio che hanno anche prezzi elevati ma non arrivano certo a 700 euro per quello o 149 euro per quello quindi io ho quello che vi consiglio sempre non fatevi fregare i soldi non fatevi fregare i soldi ho sproloquiato per 40 minuti questo video sarà molto lungo ma ci tenevo a chiedere determinate cose se volete in futuro io ovviamente mi sono sempre non rifiutata perché alla fine a me non costerebbe niente non ho voluto mai fare video così complessi in cui vi spiego anche perché non è il mio lavoro io non sono un chimico come qualcuno graziosamente mi ricorda io non sono un chimico ovviamente però non è che perché io non ho studiato chimica non sono in dovere o in diritto di parlare di dire alla mia perché la scolarizzazione non è cultura la cultura è altro la cultura è altro quindi io modestamente perché io sono ho una cultura abbastanza ampia sull'argomento perché sono dunque 12 anni quasi 12 anni che faccio uso di bio sì diciamo non non subito così del tutto subito così del tutto saranno 8-9 anni sì più o meno però ho migliorato gli inci da 12 anni quindi sappiate che chi vi vende 700 euro di crema non vi sta vendendo un miracolo in barattolo no nemmeno il bio è un miracolo in barattolo però almeno ha gli attivi tutti in alto quindi qualcosa che è veramente utile per la pelle quindi non vi fate fregare ho sprocchiato per 41 minuti di conseguenza io vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao ciao